Per l'8 marzo sono tanti gli appuntamenti, due sono quelli che vi voglio ricordare in questo momento, patrocinati e organizzati dall'assessorato per opportunità. Il primo con ago e filo alla Memo, un appuntamento dedicato alle artigiane donne nel mondo della Sartoria, un appuntamento a cura della delegazione di Fano del CIF e colgo l'occasione per essere apprezzare il fatto che si sia ricostituito un gruppo anche a Fano di questa associazione storica importante. A seguire alle 19 ci spostiamo invece qui al Paricentro per inaugurare il secondo murales del Paricentro, Costellazioni Familiari, murales che dà il titolo alla mostra e anche proprio una mostra che ruota intorno al lavoro di costituzione di questo e dell'altro murales, invece la madre delle costellazioni ad opera di Emanuela e Barbara Orciari. L'occasione di questa mostra inaugura due cose, innanzitutto questo del Paricentro anche come spazio espositivo per cui chi vorrà le tante donne che molto spesso ci chiedono di mettere in visibilità le loro opere, potranno farlo qui dentro, ma soprattutto inaugura quella che è la quinta edizione di Impronte Femminili che quest'anno ruota intorno al tema della multiculturalità. Questo dell'otto insieme a quello del 23 della Sala Verdi saranno un'anticipazione dell'edizione il cui programma completo uscirà per la metà a fine di aprile.